La UIL, il coordinamento nazionale delle pari opportunità, ha organizzato questo evento, la Costituzione è donna, il principio di uguaglianza partendo dall'Assemblea Costituente, dalle donne che ne fecero parte. Diciamo che il pari opportunità e il principio di uguaglianza è un argomento importante che la UIL sta portando avanti a livello nazionale e confederale e che poi si sviluppa anche in tutti gli ambienti di lavoro perché è un argomento principe e sovrano. La Costituzione è donna, ma ricordiamoci sempre che le donne non sono una categoria da proteggere ma è una qualità in più che va sfruttata in tutte le occasioni. Quindi ottima iniziativa quella della UIL per rivalutare, se mai ce ne fosse bisogno e purtroppo la cronaca ce lo dice, il ruolo della donna a tutti i livelli.